Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari torna ad accendere un faro sulle problematiche dei residenti di via passo della Portella e chiama in causa il centrodestra che ha la guida della città, della regione e anche del governo nazionale, riproponendo il problema della sicurezza che invece di risolversi sta addirittura peggiorando. In questo quartiere, ha detto il consigliere regionale Pentastellato, ci sono state nuove occupazioni abusive e la situazione è sempre più critica. Qui ci sono criminali, delinquenti, persone che rendono invivibile la zona, non solo con lo spaccio di droga continuo, persone che mettono la musica a alto volume, aggrediscono, minacciano, ci sono delle povere persone che quotidianamente subiscono minacce assurde da delle vere e proprie bestie, mi lasci dire, qui non ci sono persone, ci sono animali che poi gettano quotidianamente l'immondizia per strada, perché per loro l'immondizia va gestata per strada e qui ci possiamo voltare nel vedere cumuli, montagne d'immondizia e un altro problema di furti d'acqua, si sono collegati negli anni abusivamente all'energia elettrica, il gal e l'acqua, udite udite, i poveri cittadini onesti hanno ricevuto bollette di 6.000 euro, 6.000 euro di bollette, ditemi voi se è normale per una persona che ha un reddito quasi uguale a zero, quindi qui l'illegalità è diffusa, hanno iniziato lavori, si sono stoppati, fermati, da due mesi qui non si vede più un operaio. Sopra a casa mia un signore che non sta bene, non sta bene, gioco fino alle 3 la mattina con i canci, ha tre cani, quello deve essere tutelato, messo in un istituto, noi non dormiamo né notte né giorno, io non ce la faccio più, sto esaurita pazza. Ci hanno abbandonati proprio, non lo so, io non ho più parole per sto quartiere, non ho più parole. E da quanti anni vive qui? Sono 24 anni, sono 24 anni che sto qua, però andiamo di male in peggio.